Io immagino che milioni di persone siano rimaste incollate al televisore per seguire la vittoria della nazionale italiana ai campionati europei di calcio. Una vittoria sofferta che ha coronato un campionato europeo altrettanto sofferto. Essendo il calcio il nostro sport nazionale, certamente questa vittoria avrà portato un pochino di sollievo a tante persone che hanno vissuto una forte oppressione emozionale per via del covid-19 e della pandemia che ancora stiamo vivendo. Per fare un poco di lettura culturale e sociologica di questo fenomeno non possiamo dimenticare che se è vero che il calcio moderno nasce in Inghilterra nel XIX secolo, le sue basi vennero poste nel rinascimento proprio della nostra Italia con il calcio fiorentino. È sempre stato per me elemento di curiosità osservare come le nazioni che mostrano più fantasia, talento e destro nel gioco del calcio, come la nostra Italia, il Brasile, l'Argentina, la Francia, la Spagna, il Portogallo e il Belgio per esempio, hanno una cosa in comune. Sono paesi di antica tradizione cattolica. Certo anche alcuni paesi di tradizione protestante come Germania ed Inghilterra per esempio hanno ottenuto in certi periodi dei successi, più la Germania che l'Inghilterra, in verità. Ma solitamente a livello di nazionali quelle che ho elencato prima hanno avuto e hanno un certo dominio. A livello di club, di società è differente, ma non bisogna dimenticare che le squadre di calcio europee di alto livello non mostrano un carattere nazionale specifico nei calciatori essendo riempite di giocatori stranieri. In un altro paese di impronta fortemente protestante come gli Stati Uniti, in effetti il calcio all'europea non ha mai propriamente sfondato. Io immagino che in questo predominio cattolico possa essere iscritto il tradizionale amore cattolico per il bello e per l'arte, che si traduce nello sport, nella ricerca di una certa eleganza nel gioco e nell'amore per l'estro del fantasista, piuttosto che per l'attenzione al rodaggio dell'insieme. A volte questo rodaggio dell'insieme anche paga come successo con i Panzer tedeschi, ma alla lunga i nostri geni cattolici ci danno un innegabile vantaggio anche in campi imprevisti, vantaggio che non manca di portare i suoi frutti di onori e vittorie.